Stop alle manifestazioni Novavax e No Green Pass in piazza Unità d'Italia a Trieste. Lo ha annunciato il prefetto del capologo Valenti dopo che il focolaio tra i contagiati che hanno partecipato alle manifestazioni i giorni scorsi è diventato sempre più grande. Dopo Trieste anche a Novara si va verso lo stop alle manifestazioni, questa volta il sindaco Canelli a dire noi cortei, girando la patata bollente alla questura. Intanto proprio da Trieste è partita la mobilitazione SIVAX, una raccolta di firme su change.org che potrebbe coinvolgere tutta l'Italia visto il massiccio numero di adesioni, quasi 40.000 in pochissime ore.